Allora siamo con Francesco Zoppellari, Francesco 5-7, alla fine passa Roma 3-2, tu protagonista del quarto set con due grandi muri, insomma una battaglia, 21-19 il quinto. Una battaglia, hai detto bene, è stata sudatissima, abbiamo iniziato forte, poi comunque loro sono una squadra che in battuta aggrediscono molto e quindi abbiamo subito il contraccolpo, però siamo stati bravi perché siamo rimasti nella partita. Quindi questo è un gran pregio che dobbiamo portare avanti. Diciamo appunto, inizio in avvio, Roma protagonista, poi rientro di Siena per 2-1 nel conto dei set, poi un quarto set anche lì, giocato sul filo di lana e a scout vediamo, miglior realizzatore, Zoppellari. Quarto set? Quarto set, quattro punti. Adesso chiedo a Dale se posso cambiare il ruolo. Bene, poi un quinto set, veramente un continuo capovolgimento di fronte, 19 pari, 17 pari, insomma. Alla fine, ripeto, passa Roma, gran soddisfazione Francesco. Sì, senza dubbio, senza dubbio. Soprattutto perché è molto bello, perché siamo riusciti a tenere l'imbattività in casa, che questa non è una cosa da poco. Adesso abbiamo due giorni per riposare e poi testa la prossima in vista del ranking per la Coppa Italia e tutto. Grazie, complimenti. Grazie a te.